La pastorale della salute nella parrocchia, la relazione del Vescovo Armando chiude il corso di base per operatori della pastorale della salute. Dai vita alla pace, sabato 31 gennaio, tantissimi ragazzi a Fossombrone per la festa organizzata dalla CR. Cammini per giovani coppie, da domenica 8 febbraio, Loreto, un corso di formazione regionale. Il rosa, il giallo, il nero, i colori della scrittura, alla Biblioteca Comunale di San Costanzo incontro con Francesca Tombari. Oltre 30.000 visitatori alla prima sfilata del Carnevale di Fano. Ben trovati a questa edizione del TG Web. Lo avete già sentito dai titoli, sabato 31 gennaio si è tenuto l'ultimo incontro del corso base per operatori della pastorale della salute, organizzato dagli uffici diocesani per la pastorale della salute dell'arcidiocesi di Pesaro e dalla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. A relazionare sulla pastorale della salute nelle parrocchie è intervenuto il Vescovo Armando. La pastorale della salute in parrocchie è stato il tema trattato dal Vescovo Armando nell'ultimo appuntamento del corso base per operatori della pastorale della salute, a cui hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di associazioni di volontariato. Partendo dal significato di pastorale della salute, così come riportato dalla nota CEI numero 19 del 1989, il Vescovo si è soffermato poi sugli obiettivi di questo servizio, quali illuminare con la fede i problemi del mondo della sanità, svolgere opera di educazione sanitaria e morale, promuovere e costruire nella società una cultura della vita, contribuire all'umanizzazione delle strutture ospedaliere, sollevare moralmente il malato, aiutandolo ad accettare e valorizzare la situazione di sofferenza in cui versa, far scoprire il superiore valore dell'essere rispetto a quello del fare, aiutare la famiglia a vivere senza traumi e con spirito di fede la malattia dei loro cari e favorire la formazione degli operatori sanitari e sensibilizzare le istituzioni e gli organismi pastorali. La pastorale della salute, sottolineato il Vescovo, può essere descritta come la presenza e l'azione della Chiesa per recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura. La parrocchia, proseguito poi il Vescovo, è un punto di riferimento locale visibile per i cristiani e i non cristiani, aprendo la possibilità di una vita di relazione, di legami con i diversi gruppi sociali che abitano quel territorio. Il Vescovo, in conclusione, si è soffermato su alcuni compiti per l'ufficio diocesano della pastorale della salute, ovvero la formazione attente e costante dei ministri straordinari della comunione, un convegno diocesano annuale e la creazione di percorsi formativi di base nelle unità pastorali o in parrocchia, fra le iniziative la giornata mondiale del malato, giornate di ritiro per associazioni e pellegrinaggi per malati. Guardando al futuro, ha concluso il Vescovo, è necessario promuovere il formarsi di gruppi di pastorale della salute nelle unità pastorali o nelle parrocchie e stabilizzare i molti già esistenti per una pastorale pensata e progettata affinché le nostre comunità diventino effettivamente comunità sananti. Sabato 31 gennaio a Fossombrone tantissimi ragazzi hanno partecipato alla festa organizzata dalla CR Diocesana Dai Vita alla Pace, i particolari nel servizio di Matteo Itri. Come ogni anno, anche al termine di questo gennaio si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la Festa della Pace organizzata dall'Azione Cattolica dei Ragazzi Diocesana, che ha coinvolto ben 400 ragazzi ed educatori sotto lo slogan Dai Vita alla Pace. Nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio, nel pieno corso di Fossombrone, i ragazzi sono stati invitati a ripercorrere la storia delle invenzioni che hanno cambiato le abitudini dell'uomo, accompagnati da fantomatici scienziati in visita dal passato. In un alternarsi di prove, i ragazzi hanno compreso che occorre spendersi in prima persona perché possa nascere la pace, concetto successivamente ricordato sia dalla presidente Diocesana di AC Laura Meletti che dal sindaco della città ospitante Maurizio Pelagaggia, il quale ha invitato i presenti a vivere con impegno la loro quotidianità, a partire dalla scuola e dalla famiglia per poter diventare un domani dei buoni cittadini. A guidare la preghiera per la prima volta è stato il neo assistente diocesano per la CR, Don Gabriele Micci. Questo momento ha infine permesso di tirare le fila dell'intera manifestazione in cui sono stati premiati i ragazzi delle squadre che si sono meglio comportati, ulteriore prova che ciò che importa davvero non è primeggiare, ma gareggiare in lealtà. Anche i giovani della CG non hanno voluto mancare questo appuntamento con la festa della pace che si è svolta domenica 25 gennaio nell'accogliente cornice di San Costanzo. In seguito a una mattinata passata all'insegna della celebrazione eucaristica insieme al resto della comunità di San Costanzo a cui è seguito il pranzo, ci si è divisi in gruppi per riflettere su alcuni aspetti del messaggio del Papa per la giornata della pace dall'ormai noto titolo Non più schiavi ma fratelli. Sono state prese in considerazione tutte quelle situazioni che così come le propone Francesco rappresentano i moderni mezzi di sfruttamento della persona. Parlando dunque di temi come la prostituzione, il terrorismo, l'emarginazione, il lavoro, tutti si sono spesi in attività in cui ci si è potuti confrontare su quelli che costituiscono abitudini o luoghi comuni ormai consolidati ma che invece spesso rappresentano vere e proprie cortine fumogene che annebbiano la vera essenza delle situazioni in cui viviamo. L'impegno a costruire la pace nasce quindi dalla quotidianità degli stessi giovani tramite gesti concreti ed estremamente semplici anche se talvolta a controtendenza. Partiranno domenica 8 febbraio alla Casa Perferi e Giardino Scalabrini a Loreto gli incontri di formazione regionale organizzati dalla Commissione regionale della Pastorale Familiare. Si inizierà appunto domenica 8 febbraio con il convegno regionale di Pastorale Familiare dal titolo Giovani Coppie in Cammino nella Comunità. Si proseguirà poi domenica 22 marzo con Preparazione al Battesimo, occasione di evangelizzazione. Infine sabato 18 aprile con Giovani Coppie e Cammino per figli 0,6 anni. E cambiamo argomento, ci spostiamo ora a San Costanzo perché sabato 31 gennaio nella Biblioteca Comunale si è tenuto l'incontro con la scrittrice fanese Francesca Tombari dal titolo Il rosa, il giallo, il nero, i colori della scrittura. Vediamo il servizio. Francesca Tombari, scrittrice di origini fanesi, è stata l'ospite dell'incontro dal titolo Il rosa, il giallo, il nero, i colori della scrittura. Tenutosi a San Costanzo sabato 30 gennaio è organizzato dalle biblioteche Colli del Metauro e dall'assessorato alla cultura del comune di San Costanzo. Nella cornice di Palazzo Cassi, dove ha sede la biblioteca comunale intitolata Don Antonio Betti, Francesca Tombari ha raccontato il suo percorso di autrice, dagli esordi al suo ultimo romanzo dal titolo E se un piccione, ambientato proprio a Fano, un giallo dai contorni misteriosi in cui si susseguono tre omicidi ambientati nei luoghi caratteristici della città e sui calli indaga il maresciallo Capalbio. Francesca ha iniziato il suo racconto parlando di un altro libro, La storia di Luigina, un racconto vero accaduto a cavallo tra le due guerre mondiali, che vede come protagonista una giovane ragazza vittima di violenze soprusi nell'ambito familiare. Ho voluto dar voce a questa storia, ha detto l'autrice, che il caso mi ha fatto incontrare, una storia di sofferenze ma anche di speranza e di grande dignità. Passeggiavo in un bosco quando sono inciampata su una lapide, mi sono incuriosita leggendo in essa che era dedicata a Luigina, da qui l'inizio delle ricerche che mi hanno portato a ricostruire questa vecchia storia. Scrivo perché mi diverto, proseguito Francesca, provo gioia quando scrivo e questa gioia la voglio trasmettere ad altri. Un altro libro è già pronto per la stampa e anche questo farà parlare di sé. È la storia vera di Fabio che racconta come dietro all'apparente incomprensibile scelta di cambiare sesso c'è un cammino di sofferenza, di non accettazione di sé e di ricerca di serenità. Questo romanzo è il tentativo di far capire quello che i media non ci raccontano, l'umanità e la sofferenza di chi vive, una condizione che non accetta. È iniziato con grande successo di pubblico il Carnevale di Fano edizione 2015. Oltre 30.000 persone provenienti da tutta Italia hanno affollato domenica 1 febbraio Viale Gramsci per la prima sfilata dei carri allegorici. Tantissimi i prendigetto che quest'anno, grazie all'ordinanza del sindaco, hanno sostituito gli ombrelli per tutelare l'incolumità dei visitatori. Il Carnevale, domenica, è iniziato fin dal mattino con la prima volta del Carnevale Animal Friendly. Intorno alle ore 11 decine di cagnolini si sono dati appuntamento al Ponte Storto, per poi dirigersi sotto l'arco d'Augusto in occasione dell'appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe, in cui i protagonisti sono stati gli ospiti del canile comunale di Fano, i proprietari e amici degli animali. Ricordiamo che il Carnevale di Fano proseguirà con le sfilate di domenica 8 e domenica 15 febbraio. Anche per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito fanodiocesitv.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale! 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 Grazie per aver guardato il nostro canale!